Il sindaco di Porto San Giorgio, che ha già avuto interlocuzioni istituzionali sia con il prefetto che con il questore, appare deciso e risoluto a voler risolvere il problema delle violenze nei fine settimana, a prevenire i fenomeni come la maxirissa di sabato scorso. Un presidio di polizia fisso e temporaneo, secondo Loira, dovrebbe essere a Porto San Giorgio e non a Lido Trearchi e non bisogna minimizzare, il problema è dell'intero territorio. Bisogna mettere meglio a sistema tutto quello che in questi mesi si è fatto, le cose che ci siamo detti ai vari comitati, dove ho portato non una volta sola la questione delle infiltrazioni violente di alcuni soggetti all'interno della sana movida san giorgese. Porto San Giorgio è stata eletta come metra di divertimento per i più giovani, cioè una fascia che va dai minorenni fino ai 25 anni. Ormai non è la prima volta che questa città diventa teatro di episodi di violenza in un crescendo. Si può discutere su un presidio, su un presidio in determinati momenti dell'anno, un presidio da collocare poi non semplicemente perché Porto San Giorgio poi nella bella stagione ha un territorio abbastanza ampio, poco circoscrivibile. Non credo che sia molto efficace il presidio nei quartieri delle altre città, da dove questi ragazzi provengono. Intanto, grazie all'efficace servizio di videosorveglianza, sono stati individuati gli autori della Maxi Rissa e presto verranno assicurati alla giustizia, ma non si può prescindere dalla prevenzione. Adesso è il momento di stringere su più fronti e per quanto riguarda la repressione di questi fenomeni, la condanna giudiziale degli autori dei fatti, abbiamo messo a disposizione degli inquirenti delle immagini molto nitide, molto chiare, ma a me interessa prevenire.